Siamo contenti per questi tre punti che ormai ogni partita è diventata una battaglia. Adesso dal mercato invernale parecchie squadre usciranno rinforzate. Noi stiamo alla finestra e stiamo sempre attenti per qualsiasi situazione possa succedere. Per quanto riguarda la partita, è una partita difficile, un avversario scorbutico. Siamo stati bravi a non perdere la testa e a ribaltarla. Potranno arrivare dei nuovi vignasti qui a Vasto? Ma niente, fino a venerdì c'è questo mercato, poi si apre la finestra degli svincolati. Vediamo un pochettino, ragioniamo bene adesso con il mister, con la società per cercare di fare un ulteriore passo davanti. Invece in uscita? In uscita, insomma, adesso è andato via anche Morelli, quindi sono già dieci che sono usciti. Quindi non è che può uscire ancora da tante altre agende. Però vediamo, siamo attenti, valutiamo, abbiamo le idee chiare per quello che dobbiamo fare.